Noi non vogliamo pistoleri, se qualcuno ha già rubato in casa mia e sta scappando chiamo le forze dell'ordine, ma all'interno della propria abitazione ognuno si difende come può. D'altronde qualcuno entra a casa mia, rompe tutto e mette a rischio la mia vita e se io rischio la mia vita posso difendermi.